Ci sono voluti quasi 15 anni per la realizzazione della strada che avvicina i quartieri di Montaperto e Giardina Gallotti al centro di Agrigento. Finalmente dopo un lungo periodo la tanto desiderata arteria di collegamento Montaperto-Pianogatta è diventata realtà. Nella mattinata di oggi alla presenza del presidente della provincia regionale Eugenio Dorsi e del sindaco della città dei Templi Marco Zambuto si è svolta la cerimonia di consegna dell'importante opera che prende la denominazione di strada provinciale 1B. E' bello poter inaugurare cose che rendono utile la nostra provincia e soprattutto la rendono più sobria. Siamo qui insieme al sindaco perché intendiamo camminare insieme per dare la possibilità agli agrigentini, lui come sindaco e io alla provincia, al mio territorio della provincia di dare più possibilità e quali per esempio, ne parlavamo stamattina, la possibilità di avere l'acqua giorno per giorno e di avere infrastrutture che ci consentano di avvicinare, aggrigento il suo territorio, alla comunità europea. Questa nuova strada di collegamento segna realmente la svolta per questo quartiere importante della nostra città che si avvicina così ormai a tutta la città. Da qui al centro città, da qui a San Leone vi sono ormai pochissimi minuti. E' un merito questo dell'amministrazione provinciale che riesce a portare a termine un risultato importante. Chi si è interessato maggiormente in tutti questi anni è stato l'ex consigliere comunale Carmelo Settembrino che insieme all'ingegnere della provincia regionale Piero Amel hanno ottenuto la concessione dal demanio della regione siciliana, le dichiarazioni di liberatoria dei proprietari terrieri e l'utilizzo di porzioni di terreno per trasformare la trezzeria in una strada. Abbiamo iniziato già dal 1993 perché pensavamo che era l'unico mezzo per far vivere il quartiere di Montaperto. Montaperto sta morendo perché ci sono pochi abitanti, però con questa strada sicuramente sarà la vita per il quartiere perché avvicina di 4 km la città. Era il sogno di tanta gente che voleva realizzarla però non si riusciva.